però l'idea è la mia, il format è il mio quindi beve può non andare in onda ma non posso essere sostituita ok, ritorniamo un attimo alla carriera lavorativa la mia sembro morta perché sembro morta? sai quando fanno le cose della carriera? però poi sei nel piano totale diciamo della carriera chi lo sa? magari alla fine, magari alla metà ti senti? ti rifaccio una domanda che hai fatto se non sbaglio Arisa, forse forse mi sbaglio ti senti una diva? no, la diva no no, ma non lo so non è che se ne era pazza se mi sentessi una diva perché no, invece dai ormai sei a dei livelli altissimi sei penso una dei personaggi più ti ringrazio insomma comunque con Belve diciamo che sei letteralmente esplosa con Belve sicuramente mi ha dato una visibilità attiva la Rai non l'aveva capita appieno inizialmente guarda io ti devo dire una cosa io sono andata in onda per la prima volta sul 9 e non esisteva una mia idea mi hanno dato l'opportunità di andare in onda tra l'altro scusami programma ideato e condotto e autore si complimenti ho una squadra insomma di collaboratori bravissimi però l'idea è la mia il format è il mio quindi Belve può non andare in onda ma non posso essere sostituita ma sai poi l'idea mia è stata fare un'intervista cambiando tono escludendo dalla promozione qualsiasi ospite c'hai un film c'hai un libro non vieni oppure se vieni non ne parliamo capito? perché se no ti mette già in una condizione di complimenti che bello il film che bello il film invece l'obiettivo è entrare un po' nel profondo diciamo della personalità coglierne sfumature magari inedite tanto i personaggi sono stati tutti straintervistati la cosa interessante è coglierne o degli aspetti inediti del carattere oppure di dare fuori una novità comunque invece la Rai ti devo dire la verità mi ha dato l'opportunità intanto di andare in onda con un format mio piccolo inesistente era andato in onda sul 9 era piccolo piccolo mi ha poi dato l'opportunità di andare in seconda serata con più serate diciamo durante la settimana sperimentandola e passandola poi in prima serata quindi io da questo punto di vista non posso proprio lamentarmi cioè c'è stato un percorso virtuoso che è quello che dovrebbe funzionare che dovrebbe no? essere sperimentato sempre cioè testare i programmi in seconda serata se funziona o portarli in prima? quindi ci ha creduto quindi da questo punto di vista devo dire non posso che rallegrarmene qual è secondo te il tuo punto di forza? cosa rende così formidabile che poi Francesca Fagnani perché l'asso vincente proprio del programma sei te io penso il tuo modo di comunicare la tua non lo so persuasione nei confronti dell'ospite quel verso acustico che fai che non è banale è brava che comunque dà una opinione guarda io faccio le domande che vorremmo fare tutti brava esatto tutti sei noi a casa cioè esatto sei noi a casa quindi quella è un po' di spontaneità e cerco la mia ambizione è tirare fuori dall'altra persona la spontaneità che in televisione è un concetto molto aleatorio però invece se tu guardi per una persona una persona a lungo negli occhi senza tavoli dritto e gli fai una domanda non ti risponde una volta non ti risponde una seconda volta non ti risponde una terza poi è più imbarazzante non rispondere che rispondere capito cerco di abbattere i muri tra me e la persona ed è un'operazione secondo me sempre simpatizzante e vincente su chi e sugli ospiti però non facile è infatti una delle cose in cui